Eccoci con Giacimicchia, consolidata secondo corse classifica, rincorso del quartiere terremoto. Noi ce la mettiamo, comunque non dimorriamo, mettiamo i nostri impegni in tutte le partite come ultimamente ci stiamo facendo e pensi che i ragazzi siano facendo un buon ritorno. Questa sera è una partita molto altissima di tutto tempo, quindi l'avete staccata. E' una partita molto fisica, molto masca. Questa è la vittoria, quello che contava, l'avete staccato, anche se sono a parte dei miei, adesso siamo più cinque, quello che contava la vittoria ciò che fa. Mi sa che questo qui sarà il prossimo obiettivo, prima di un po' gli schemi li ho sistemati. Manca solo il mio libro qui a posto. Siamo a posto. Va bene, grazie ragazzi. Grazie. Grazie.